Questo pomeriggio un camion che trasportava rifiuti ferrosi ha perso il rimorchio mentre percorreva la rotatoria in corrispondenza del casello della 14 a Marotta. Sono passate da poco le 16.30 quando il camion della ditta Carfer di Pesaro, una ditta specializzata nello smaltimento di rifiuti speciali proveniente dall'entroterra, percorre la rotatoria prima del ponte dell'autostrada sulla strada provinciale 424 per immettersi in autostrada. Per ragioni ancora al vaglio della polizia locale, il rimorchio del mezzo pesante si sgancia e si ribalta sulla carreggiata ed abbatte la recinzione in ferro della rotatoria ed il materiale ferroso viene disperso in gran parte tutto sulla sede stradale. Fortunatamente al momento dell'incidente nessun'altra persona o altro mezzo è stato coinvolto, ma il traffico ha inevitabilmente subito rallentamenti. Sul posto per recuperare il materiale è intervenuta subito dopo una gru speciale addibita al carico dei rifiuti ferrosi e bonificare così in questo modo l'area interessata. Per i rilievi e regolamentare il flusso di mezzi sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale di Marotta.